E quindi quando ci sono delle cooperative che sviluppano un concetto di sfruttamento di quelle che sono le condizioni economiche di queste persone, per esempio concentramenti di 500 persone dove non c'è nessuna assistenza, facciamo da contraltare a situazioni in cui ogni 10 persone ospitate c'è una persona laureata che li segue dalla mattina alla sera. Dopo gli scandali e le inchieste che hanno visto coinvolta la cooperativa Ecofficina, Stefano Ferro di Padova Accoglie parla del business dei profughi, per sottolineare come ci siano strutture serie che sfruttano i soldi che lo Stato mette a disposizione, mentre altre, tendenzialmente quelle più grosse, che cercano solo il profitto. L'associazione Padova Accoglie era stata protagonista di un duro faccia a faccia con l'amministrazione comunale la scorsa estate, quando il primo cittadino Bitonci aveva indicato ai media la casa messa a disposizione proprio da ferro per ospitare alcuni richiedenti asilo. Da quell'esperienza una decina di privati hanno iniziato a praticare la microaccoglienza. L'impegno del sindacato e delle associazioni che si occupano di migranti deve andare oltre l'emergenza, dicono, per evitare che i richiedenti asilo diventino preda di malavita e malaffare. Questo, secondo loro, è il principale business che crea degrado e che spesso viene strumentalizzato da una parte politica. Dobbiamo evitare il degrado a tutti i costi e quindi qualsiasi iniziativa che sia volta a questo e quindi al periodo post-emergenza, quindi dopo che i ragazzi sono stati gestiti nei centri di accoglienza straordinaria, riuscire a capire come evitare che vallano sulla strada. Di accoglienza se ne parlerà durante la serata organizzata dalla CGL giovedì prossimo al multiastra dell'Arcella, dopo la visione del documentario vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino, Fuoco a Mare. La grande accoglienza non funziona, non funziona e vediamo, ahimè, anche i fatti di cronaca. Dobbiamo avviare una discussione forte su quella che è l'accoglienza diffusa, organizzata.